Più volte in questo settimanale abbiamo parlato della legalità a 360 gradi, allora vediamo altri servizi. La battaglia per la legalità è un percorso culturale che deve coinvolgere anche i giovani. Per far crescere una coscienza collettiva intorno ai temi dell'antimafia e della lotta allo sfruttamento, la CGL promuove iniziative nelle scuole insieme alle associazioni più impegnate nel contrasto ad ogni forma di illegalità. Questo è un impegno civile e culturale sul quale noi ci consideriamo in prima linea, nel rivolgere l'attenzione verso i giovani, i giovani disoccupati, i giovani precari, i giovani comunque impegnati nei posti di lavoro con assemblee, riunioni e l'ingresso nelle scuole assieme a Libera per ragionare assieme loro sui temi della legalità e del lavoro regolare, del lavoro pulito. Lo stato di salute dell'Emilia Romagna viene monitorato dal sindacato con l'esame dei rapporti della Banca d'Italia e della direzione distrettuale antimafia. Il lavoro regolare, il lavoro illegale, le infiltrazioni emergono sempre di più dai vari osservatori ufficiali, per cui quando il rapporto annuale della Banca d'Italia conferma che dalla nostra regione, dalle nostre province partano segnalazioni di operazioni economiche di sospetto riciclaggio, oltre che anche di finanziamento del terrorismo internazionale, questo getta un'ombra preoccupante sulla struttura e il tessuto economico delle nostre province. La CGL ha sostenuto due progetti di legge e di iniziativa popolare sul riutilizzo dei beni sequestrati alle mafie e sui controlli nel sistema degli appalti. Lì c'è il lavoro nero, lì c'è il subappalto, lì c'è l'obbligo per molti dipendenti di licenziarsi e trasformarsi in false partite IVA, c'è la moltiplicazione dei voucher, un triste e complicatissimo abbassamento del livello del lavoro regolare.